Ci vuole pazienza, Rino credo che abbia fatto un ottimo lavoro, ieri ero allo stadio, ho visto la partita, è stata una partita a senso unico, quindi Milan ha chiuso molto molto bene, sono convinto che Rino saprà trasmettere la giusta convinzione, il giusto gioco per un futuro sicuramente positivo. Alberto, c'erano in campo tanti ex nazionali, come la vedi la scelta di ripartire da Roberto Mancini? È un nuovo allenatore, quindi avrà grandissimo entusiasmo, credo che possa portare una ventata di positività e lo spero per l'Italia, per la nazionale, speriamo veramente. Sono effetti sicuramente un po' di tristezza, però arriva questo momento per tutti, quindi Gigi ha fatto la storia della Juventus, la storia della nazionale, è un giocatore, è un uomo straordinario, quindi adesso vedremo cosa deciderà, però è grandissimo. Grazie a tutti.